guarda che torna alla carica guarda che torna alla carica ma dimmi te non si arrende il ciccio qua eh con il nuovo TLC premendo il tasto C sulla tastiera abbiamo la possibilità di cambiare la posizione delle placche dello stego in tre diverse modalità e in base alla posizione delle placche a quanto pari cambia anche il colore che figo che figo oh perfetto che punto meraviglioso dove svenire tesoro che punto meraviglioso ma si dai ascolta mentre il tizio sta domestica qua sotto io mi sa che provo ad attirare anche gli altri due allora vediamo di attirare questo qui l'ho preso ok si sta già arrabbiando si ci attira anche l'altro si perfetto ok veda 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 venite ragazzuoli venite per di qua di qua c'è la salvezza uh eccolo guarda la caduta fantastici ok noi eravamo posizionati tipo qui ok ok dove sono i signorini là dietro vi potete avvicinare scusatemi potreste venire tipo per di qua come ha fatto prima dove sono ah ok ok alberi che cadono perfetto mi fate anche un favore perché non ci vedevo una cippa dai che ci viene comodo comodo da qui aiuto uno però non l'ho perso di vista l'ho perso vedo vedo un'ombra là dietro ma non capisco che cos'è ah no è la coda della nostra viverna forse è la coda della viverna oh un po' a turno però piano piano li sto colpendo tutti e due aspetta quello fugge quello fugge beh certo quello è di livello più basso quello è di livello più basso aspetta che lo stendiamo così poi ci concentriamo sull'altro e c'è andato giù perfetto tesoro manchi solo tu manchi solo tu lo so con te sarà più difficile ma non dirmi che mi stai già fuggendo anche tu ma davvero ma per davvero ma che bellini poi mi vanno a svenire tutti nello stesso angolino come siete dolci come siete no 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 torna per di là torna per di là ah ginetto ci sta morendo di freddo dannazione mi sa che dovremmo fare una caffatina a casa qui a farci il tutino con la pelliccia dannazione ah provo ad accendermi un po' di fuochi ma non so se a ginetto basteranno sinceramente oh dai che forse sta fuggendo di nuovo puoi andare per di là insieme ai tuoi amici per cortesia non mi far correre avanti e indietro da una parte all'altra dai vai per di là oh bravo così così perfetto bravissima perfettissimo e c'è svenuta anche la terza ottimo ottimo perfetto perfetto ah ok allora come prima cosa vediamo di accendere un po' di fuocherelli e di iniziare l'addomesticamento di queste creature ah mi serve legna mi serve legna allora abbiamo tutte e tre le creature in addomesticamento una qui una qui una lì perfetto sono tutte vicine l'unico problemino è che ginetto sta morendo tanto di freddo noi ci siamo fatti cinque fuocherelli e se ci mettiamo qua in mezzo ginetto quantomeno non ci muore quindi ora niente aspettiamo ogni tanto andiamo magari a dare un narcotico anche se vabbè hanno il livello del torpore altissimo quindi non sarà necessario andare tanto spesso e aspettiamo che si addomestichino anche loro così poi li testiamo con la nuova sella c'è la possibilità di suonare il tamburo non vedo l'ora non vedo l'ora ah io però ne ho solo una sella eh vabbè ne testeremo una poi faremo quelle per gli altri ah finalmente è mattino e tutti e tre i nostri mammut si sono addomesticati e grazie ai nostri fuocherelli qua per fortuna non siamo morti congelati ma non ci siamo tipo potuti spostare di qua per tutta la notte allora direi di partire subito a testare il mammut direi questo che è più forte e gli altri due li mettiamo nella sfera poche si peraltro adesso ho un piccolo grande dubbio ovvero che io ho solo tre sfere poche di cui ora due sono già occupate una ci serve per l'altro mammut e questo come me lo riporto a casa posso sperare che la viverna riesca a prenderlo ma non ci credo ma sinceramente penso di no però vabbè tentare non nuoce non ci costa niente vediamo di fare un tentativo ah 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 eh no ovviamente giustamente no non avrebbe molto senso ok va bene vedremo poi di tornare a prenderlo più tardi allora uno dei mammut peraltro sta zona è super piena di metallo cioè guardate quanto quanto metallo ce n'è ovunque e noi non lo possiamo raccogliere perché c'è il peso della bestiolina qui che è ancora un po' uno schifo e dobbiamo assolutamente aumentarlo allora dicevamo testiamo finalmente il nostro mammut e le sue nuove funzionalità allora tanto per cominciare la nuova sella ha appunto un meraviglioso tamburo stupendo e che però possiamo suonare solamente come passeggeri quindi allora vediamo sedile passeggeri ok perfetto e noi ora possiamo aspetta dobbiamo andare a ritmo ah no aspetta sono una schiappa in questi giochi aspetta ok niente guarda il ritmo che c'ha ginetto perfetto perfetto benissimo dire che è arrivato il momento di iniziare a testare tutte le nuove potenzialità del mammut tra le nuove funzionalità che il nuovo TLC ha dato al mammut c'è quella di poter afferrare altre creature di piccoli dimensioni ovviamente con la proboscide e di lanciarle lontano dopo aver afferrato le creature il mammut le può anche danneggiare ma attenzione perché nel momento in cui scenderemo dal mammut lui rilascerà la creatura che a questo punto sarà libera di attaccarci o di fuggire utilizzando il pulsante per saltare il nostro mammut è adesso in grado di sollevarsi sulle zampe posteriori e scaricare tutto il suo peso tutta la sua forza sulle zampe anteriori schiacciando i propri nemici puntando l'inquadratura verso destra il mammut sposterà solo la zampa destra stessa cosa per la sinistra per farle sollevare entrambi invece dobbiamo puntare dritti davanti a noi con un potente barrito il nostro mammut è adesso in grado di depotenziare tutti i nemici che si trovano nel raggio d'azione del barrito stesso sopra le creature che subiscono il nostro depotenziamento compariranno anche delle stelline rosse a indicarci che appunto sta subendo l'effetto del nostro barrito il tamburo montato sulla nuova sella del mammut può essere utilizzato solo nella posizione di passeggero e oltre ad essere incredibilmente molto figo ci permetterà sia a noi che ai nostri alleati non solo di essere immuni alla paura ma anche di migliorare la rigenerazione della resistenza cacchio licchio ridendo e scherzando questo ci è rimasto anche un pochino ferito e vabbè poverino era anche di livello molto molto basso facciamo così ci portiamo via questo con le zanne viola che mi piace mocio mocio e sinceramente direi anche il mammut più forte a cui abbiamo già messo la sella e tizio te giuro torniamo a prenderti te lo giuro guarda te lo prometto croce sul cuore guarda facciamo così mi segno anche il punto sulla mappa ecco lì guarda segnato sulla mappa ok ti fidi ti fidi speriamo di ricordarci e cicci tu puoi scendere per cortesia puoi atterrare grazie ok no 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 tu devi aspettare qui ti ho detto che ti vengo a prendere te lo giuro poverino non si fida forse fa anche bene ma me lo sono segnato sulla mappa guarda te lo giuro torniamo a prenderti non ti preoccupare allora noi adesso ce ne torniamo a casetta vediamo di posare un pochino di creaturine poi giuro torniamo a prendere il mammut e infine per concludere in bellezza io vorrei andare a catturare due ragnetti per fargli fare i cucciolotti a sto giro mi devo ricordare assolutissimamente di far accoppiare le creature già dentro la nursery così evitiamo problemi di sbalzi di temperatura e altra roba ad ogni modo per quanto riguarda le novità del TLC sul mammut sinceramente apprezzo tantissimo cioè mi sono piaciute veramente tanto le novità sul mammut sono carine poi il mammut sinceramente è anche più carino da manovrare cioè ti muovi anche un pochino meglio con lui rispetto che lo stego lo stego è veramente troppo lento non ha senso non ha senso di esistere in questo gioco lo stego poverino mi dispiace e poi c'è da dire che afferrare le altre bestie con il mammut e poi lanciarle da una parte è da una grande soddisfazione è stupendo da proprio soddisfazione bello bello perfetto allora i due mammut e lo stego li abbiamo portati qui vediamo di andare a riprenderci il terzo mammut e andiamo anche nella zona dove ci sono appunto i ragnetti perché vorrei tanti piccoli cuccioli di ragno tanti piccoli ragnettiti allora si giuro stavamo andando a prendere il mammut però ci è capitato di finire per puro caso in questa zona che solo casualmente è molto lontana in realtà da dove si trova il nostro mammut e finalmente abbiamo trovato i ragnetti guarda qui quanti ragnetti il problema è che in questa zona non so perché ci sono cadaveri strani cioè tipo guarda lì guarda lì ci sono cadaveri ricoperti da roba giallognola ma cos'è tipo è una zona radiattiva guarda là ce n'è un altro ok allora io non mi azzardo né a farli mangiare alla viverna né a toccare l'acqua perché a sto punto penso che l'acqua non sia proprio pura limpida e comunque non credo che ci faccia molto bene ora visto che c'è roba che striscia laggiù ho visto raptor alfa eccetera non mi sembra il caso di addomesticarceli qui ah là c'è anche un cinghiale ottimo perfetto quindi ci vediamo un attimino i livelli dei ragnetti uno me lo sono già perso ottimo non lo vedo più erano tre ah è laggiù in fondo ok perfetto allora ne abbiamo uno qua davanti che è di livello 63 maschio perfetto potresti anche già andare bene guarda abbiamo un maschio 104 un maschio 104 e dove sta scappando vabbè ora se mai ce l'andiamo a recuperare fammi vedere l'altro e questo è un livello 24 femmina però cavolicchio poteva andarci bene allora mi serve il 104 il 104 è quello là dietro vivi vediamo di prenderlo la prima l'ho preso sì è il 104 è il 104 preso il 24 non lo so vabbè comunque adesso quello che noi facciamo è portarcelo in un'altra zona che non sia piena di cadaveri roba che striscia e soprattutto un ronzio fastidioso che sento ogni tanto e non ho capito da dove arriva sinceramente mi devo un attimo informare su sta cosa sembrano tipo uno sceme di insetti però si sente solo ogni tanto non ho capito in base a cosa allora qua vedo belle pianure sì siamo vicino all'acqua c'è anche il rischio che però mi cada in acqua no vabbè non dovrebbe buttarsi in acqua perché è a domesticamento passivo quindi non fugge in teoria in teoria allora guarda qua su questa riva mi sembra un posto stupendo il ragno se la sta prendendo con qualcuno va bene tu fai quello che devi fare io vedo di rimuovere un pochino di spazzatura dalla zona ciao cucciolo il ragnetto intanto sta mangiando io ne ho visto un altro di raptor ciao raptor ciao raptor ma ci sono anche i dilo eeeh non volevo far cadere alberi non volevo far cadere alberi ci sono anche i dilo ci sono anche i dilo ma scusa i dilo che attaccano il raptor tech ma siete seri cioè ragazzi siete seri vabbè mettiamo fino a questa diatriba per cortesia salve sì ciao tech sei bellissimo sei bellissimo ok qualcun altro la spiaggia è sicura no dov'è il ragno il ragno sta inseguendo bestie si sta facendo inseguire dalle bestie no aspetta aspetta ragno allora ragno tu insegui la bestia lì aspetta che ti tolgo il dilo dalle scatole ragno puoi fare in fretta se ti devi mangiare bestie però allora vabbè mentre lui papa se ce la fa noi intanto ci organizziamo quanta roba inutile che mai raccolto ciccia allora vediamo di metterci la carne marcia nell'ultimo slot oh perfetto il ragnetto ha finito di andare a caccia allora ci improfumiamo ben bene e vediamo di dargli da mangiare tesoro dimmi che ti sei bloccato lì ti sei bloccato no peccato sarebbe stata una cosa tanto carina se ti fossi bloccato lì vediamo di dargli la pappa senza che si innervosisca aspetta 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 un attimo tizio sei in passivo vero? siamo passivo che come al solito soprattutto negli addomesticamenti passivi lui scle dov'è il mio ragnetto? ragnetto ragnetto no 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 ragnetto ragnetto dove vai? dove vai? no ragnetto vieni qui vieni qui mangiati la pappa ah no si è arrabbiato si è arrabbiato l'ho disturbato mentre mangiava pappa l'ho disturbato mentre mangiava pappa scusa non volevo scusa non volevo vediamo se ora riesco no 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 se si gira verso di noi e noi siamo troppo vicini lui si arrabbia tanto tanto ok 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 un po' di pappa glielo ho data un po' di pappa glielo ho data aspettiamo che gli venga di nuovo fame ok adesso la spiaggia dovrebbe essere tranquilla sicura si sta anche facendo notte però cribio speriamo di riuscire ad addomesticarlo prima prima che che calino le tenebre ma tizio tu non mi stai andando in acqua vero? non stai andando a farti il bagno proprio adesso ah no ok pensavo tieni altra pappa ok dai 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 sta andando sta andando la cosa sta fungendo perfetto se troviamo un altro ragnetto femminuccia qua nei paraggi lo riporto su sta spiaggia è bellissima ma ora non vorrei dire ma anche la vista è bellissima guarda lì che bella con tutti i cosi rossi ma ma tipo se no allora io stavo pensando a una follia forse costruire una terza base d'appoggio però perché no io mi sa che qua mi ci farei anche è una bella base cioè è troppo carina messa qua così bella protetta i lati con solo una zona d'ingresso l'altra dal mare cioè dal mare dall'acqua dallo stagno vabbè non si vede una cippa con la luce la bestiolina ci vedrà di più non lo so dai siamo ancora al 41% sarà una notte lunga eterna non ti girare non ti girare si no no si è corto si è corto scusa 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 no dai ma ti stavo dando pappa cioè non è che ti stavo dando schiaffi voglio dire non capisco perché prendersela così però per quanto ce l'avrà con noi ok aspetta facciamo una cosa andiamo su 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 verso l'alto tanto 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 in alto e poi riscendiamo giù tanto 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 in basso e vediamo se si è dimenticato di noi si ok non mi sembra ce l'abbia più con noi però non andare per di lati cioè non iniziamo cazzosetto il ragnetto se la piglia con tutti guarda no 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 bestia non fuggirmi in acqua che se no questo ti segue che se no questo ti segue ci potresti morire tipo aspetta aspetta che ti do una mano oh perfetto buon appetito salve sì non si rampa troppo il pancino che io avrei un po' di carne marcia da darle sa com'è lei ha fame si ha fame no ma è sceso l'addomesticamento ma crib ma dai ma davvero ma che sfiga deve averlo colpito quella bestiaccia là ma porca cucciola ci ha messo l'eternità ok siamo al 50% mamma mia però non ti girare ciccio non ti girare fatti venire fame no si è accorto l'ho toccato l'ho toccato l'ho toccato l'ho toccato non volevo toccarla non volevo toccarla ma cribbio cacchio 94 dai 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 ne manca una ne manca una ne manca una secondo me con ancora una fettina di carnina marcia secondo me ce l'abbiamo speriamo perché abbiamo passato la notte armati di torcina a inseguire sta cosina che si nascondeva in mezzo ai cespugli porca miseria però quantomeno la zona come già detto era libera da qualsiasi altra rottura di scatola a parte quelle che si andava a cercare il ragnetto qua dovrebbe essergli venuta fame per l'ultima volta ti girare così all'improvviso però dai ti prego ti prego ti prego ti prego alleluia alleluia ciao ragnetto ciao ragnetto dove vai dove vai seguimi seguimi vieni ciao come sei brutto come sei brutto aspetta che tolgo anche la torcina mamma mia ti muovi in modo tutto strano e sei bruttissimo noi la sella non ce l'abbiamo vero no l'ho dimenticata a casetta vabbè non importa non importa lo testeremo quando torniamo alla base dove sei vieni cicci ok perfetto vediamo di andare a cercare anche la compagnuccia ci vorrà un'altra giornata intera a prenderlo vedrai a me non me ne frega niente io prendo livello 24 perfetto ciao femminuccia livello 24 lo so che è un livello 50 e non è che sia proprio altissimo però ripeto perché farsi sfuggire un'occasione così cioè per una volta che Archi ci viene un pochino incontro approfittiamone scusa ma con sti cadaveri cioè io posso interagire tipo li posso ah ah si sono scatenate robe allora mi da feci feci ma perché ma perché un cadavere mi dovrebbe restituire feci eccolo qua che bellino che è l'ovetto di di Araneo è molto carino è violaccio muzyka Grazie a tutti